C'è un posto tranquillo, ideale per scrittori, in cerca di ispirazione. Nell'amore si liberò dei legacci della restrizione. Va fanculo, urlò Kelly, va fanculo all'inferno! Si sta ambientando? È un paradiso. Ora! Finché è un giorno. Salve! Quella chi è? È Tamara Drew. Buon Dio, che vi è successo? Si è rifatta il naso, papà. Adoro il tuo nuovo naso. In realtà non è nuovo, solo più piccolo. È single, sai? Che si deve fare per avere un po' di tè? Preparatelo. Tè, zucchero, frigo. Io vado a lavorare. Ben Sargent. Attraverserei le fiamme per farmelo. Oh mio Dio! Altre domande? Ti regalerò la più grossa. Scopata della tua vita. Con amore, Tamara. Dov'è questa scopata che mi hai offerto? Io sono disponibile. Matrimonio. Ricordami di non cascarci mai. Andy, tu sei solo un oggetto sessuale. Nessuno ti vorrebbe. Dal regista di The Queen e le relazioni pericolose. La commedia più calda dell'inverno. Beth, non è niente. Bugiardo! Gemma Arterton è Tamara Drew. Tradimenti all'inglese. Buongiorno, sfigato. Buongiorno a lei, coglione. Dal 5 gennaio al cinema.